Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prima di tutto devo scusarmi del ritardo, ma è stato un incidente. Sono rimasto chiuso nell'ascensore per 25 minuti. È stato un calo di tensione e si è fermato l'ascensore. Grazie a Dio sono venuti i vigili del fuoco. Ringrazio tanto a loro e dopo 25 minuti di lavoro sono riuscito a farlo andare. Un applauso ai vigili del fuoco! Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù, che partecipa a un banchetto nella casa di un capo dei farisei. Gesù guardava e osserva come gli invitati corrono, si affrettano per procurarsi i primi posti. È un atteggiamento piuttosto diffuso anche ai nostri giorni, e non solo quando si è invitati a un pranzo. Abitualmente si cerca il primo posto per affermare una presunta superiorità sugli altri. In realtà, questa corsa ai primi posti fa male alla comunità, sia civile sia ecclesiale, perché rovina la fraternità. Tutti conosciamo queste persone arrampicatori, che sempre si arrampicano per andare su, su, fanno male alla fraternità, dannano la fraternità. Di fronte a questa scena, Gesù racconta due brevi parabole. La prima parabola è rivolta a colui che è invitato a un banchetto, e lo esorta a non mettersi al primo posto, perché dice, «Non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te, e lui venga a dirti, per favore, vai indietro, cedere il posto». Una vergogna. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Gesù, invece, insegna ad avere l'atteggiamento opposto. Quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica, «Amico, viene più avanti». Dunque, non dobbiamo cercare di nostra iniziativa l'attenzione e la considerazione altrui, ma semmai lasciare che siano gli altri a darcele. Gesù ci mostra sempre la via dell'umiltà. Dobbiamo imparare la via dell'umiltà, perché è quella più autentica, che permette anche di avere relazioni autentiche. La vera umiltà, non la finta umiltà, quella che nel Piamonte si chiama la mugnaquaccia. No, quella no, la vera umiltà. Nella seconda parabola, Gesù si rivolga a colui che invita, e, riferendosi al mondo di selezionare gli invitati, gli dice, «Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zopi, cecchi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti». Anche qui Gesù va completamente controcorrente, manifestando, come sempre, la logica di Dio Padre. E aggiunge anche la chiave per interpretare questo suo discorso. E qual è la chiave? Una promessa. «Se tu farai così, riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti». Questo significa che chi si comporta così avrà ricompensa divina, molto superiore al contraccambio umano. «Io ti faccio questo favore, aspettando che tu me ne facci un altro». No, questo non è cristiano. La generosità umile è cristiana. Il contraccambio umano, infatti, di solito, falsa le relazioni, le fa commerciali, introducendo l'interesse personale in un rapporto che dovrebbe essere generoso e gratuito. Invece, Gesù invita la generosità disinteressata per averci la strada verso una gioia molto più grande, la gioia di essere partecipi dell'amore stesso di Dio che ci aspetta a tutti noi nel banchetto celeste. La Vergine Maria, umile ed alta più che creatura, ci aiuti a riconoscerci come siamo, cioè piccoli, e a gioire nel donare senza contraccambio. Cari fratelli e sorelle, oggi, primo settembre, ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, una preghiera ecumenica che anima la presa di coscienza e l'impegno per tutelare la nostra casa comune, a partire da uno stile di vita personale e familiare più sostenibile. Da oggi fino al 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi, è un tempo favorevole alla rote di Dio per tutte le sue creature e all'assunzione di responsabilità di fronte al grido della Terra. Saluto tutti voi provenienti dall'Italia e da varie parti del mondo. In particolare saluto i pellegrini ucraini, Slava Iesuso Christo, che sono venuti da diversi paesi in occasione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, che avrà luogo a Roma nei prossimi giorni. Saluto le suore e le giovani in formazione dell'Istituto San Giuseppe Benedetto Cotolengo. Grazie, grazie per la vostra testimonianza. Grazie per quello che fate e per quello che ci insegnate. I ciclisti di Cunardo e i fedeli del Cerro di Botanucco, il Gruppo dell'Azione Cattolica di Lecce, i giovani di San Matteo della Decima, Gallo Ferrarese e Capriati San Gervasio. Mercoledì prossimo, a Dio piacendo, partirò per un viaggio apostolico in Africa per visitare le popolazioni di Mozambico, Madagascar e Mauritius. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera perché questa visita pastorale possa portare i frutti desiderati. Il prossimo 5 ottobre terrò un concistorio per la nomina di dieci nuovi cardinali. La loro provenienza esprime la vocazione missionaria della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra. Ecco in nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Miguel Ángel Ayuso Gixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Diálogo Interreligioso. Monsignor José Tolentino Mendoza, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Monsignore Suhartio Ardhot Kamandlocho, archiviscovo di Jacarta. Monsignore Juan de la Caridad García Rodríguez, archiviscovo di San Cristóbal della Habana. Monsignor Fridolin Ambonko Besungu, archiviscovo di Kinshasa. Monsignore Jean-Claude Hollerich, archiviscovo di Lussemburgo. Monsignore Alvaro Ramazzini Imeri, vescovo di Huehuetenango. Monsignore Matteo Zuppi, archiviscovo di Bologna. Monsignore Cristóbal López Romero, archiviscovo di Rabat. Padre Michael Scherny, sottosegretario della Sezione Migranti di Castero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardenalizio due archiviscovi e un vescovo che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa. Monsignore Michael Luiz Fitzgerald, archiviscovo emérico di Nebte. Monsignore Sigitas Tamkevixius, archiviscovo emérico di Caunas. Monsignore Eugenio Dal Corso, vescovo emérico di Benguela. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.